Fabio Caressa ha parlato delle relazioni complicate o sentimentali di alcuni giocatori importanti e di alcune squadre. Prima di continuare, benvenuto nel canale Internews, se non vuoi perderti nulla di quello che succede ai nerazzurri, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere avvisato ogni volta che escono nuove notizie, lascia un mi piace all'inizio del video, andiamo. Fabio Caressa ha citato in particolare a Cancelanoglu con il Milan e il rapporto tra Andrea Ranocchia e l'Inter. Adesso è il nemico numero uno dei tifosi rossoneri, che si sentono feriti e reagiscono di conseguenza. Il rapporto tra Ranocchia e l'Inter è stato inizialmente di odio e ti voglio bene. Manca molto anche senza giocare molto. Ma aveva un grande feeling con l'Inter, non sempre ricambiato. Te lo immaginavi? Lasciate la vostra opinione nei commenti, la vostra opinione è molto importante per l'Inter, lasciate il vostro mi piace sul video e iscrivetevi al canale, a più tardi famiglia nerazzurra.